Altro pacco, veloce unboxing, sono di fretta, questa roba arriva da Titano Store Banda di velcro, per mettere le patch, devo metterla sul mitica che ho appena comprato Maglietta Woodland Sì, tra l'altro hanno sbagliato, mi hanno mandato mai che porta, io chissà mai che allunga Vabbè, devo far notare Poi, due pacchi di pallini gialli 012 che usa sulle granate E Tattico della Miltex, non mi guardo male, ho detto che il mio si sta distruggendo Questo è il nuovo tattico Tante tasche, grandi Pallacci belli morbidi Tasca per la sacca d'acqua Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima